Portiamo a fare un regalo a tutti i giocatori se anche tu vuoi ricevere 5 secondi per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 E vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu questo regalo Beh ragazzi andiamo qui nel rifugio, perfetto, andiamo dentro Quindi ragazzi noi ci danniamo qua, abbiamo aperto tutti quanti i regali Seguendo più o meno questa combinazione sarete in grado di aprire questa skin e questo regalo prima di tutti Andiamo a vedere, lo scudiamo un po' e ora raga lo andiamo ad aprire Vediamo se è vero, voi lasciate un bellissimo like ora, se è vero lasciate un bellissimo Ecco qua raga, non ci posso dire raga, non è fake, non è assolutamente fake Ve lo faccio dire, ce l'ho qua nell'armadietto, muovo subito veloce per farvi vedere tutto che non è fake E potete farlo soltanto utilizzate il codice Codingamer502 Ciao ragazzi, bye